Tu sei davvero sicuro che io non ti senta mentre strisci nell'ombra, Bayek di Siwa? Ho seguito la tua scia di morte e di follia, dalla mia patria fino ad arrivare qui. Adesso risponderai della morte di mio figlio, Romano! No, Egiziano. Adesso tu ti inchinerai di fronte al tuo Dio! Hai ucciso mio figlio e i miei amici! Nessuno ti piacerà. Perché non mi hai ucciso ad Alessandria quando potevo? Dovevi unirti all'ordine! Ne avevi bisogno! Ma tu hai scelto lo scherminato. Uomo che ha ucciso mio figlio! Si nasconde in un altro tempo! Sai, anche il tuo amico Ezefa era davvero un testato. Proprio come può fare. E percutiamo, Seon! Sono stupidi trucchi! Exempio, Seon! Son! Ero! 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 Il tuo tempo su questa terra è scaduto! Presto anche la tua mente facilita. Alla fine succede azione. Il mio potere... Il mio potenziale... Non riesce a sentire. Sei solo un povero contadino. Pastori di cammelli e sparatori di menna. Questo è tutto ciò che offre... Tu hai negato a mio figlio l'aldilà! Ma pronti i punti? E tu, sarei il meglio dell'intero Egitto! E tu, sarei il meglio dell'intero Egitto! E tu, sarei il meglio dell'intero Egitto! E tu, sarei il meglio dell'ingeglio? E tu, sarei il progetto di allenar. Bello dell'angelo! E tu, sarei il mio figlio? E tu, sarei il mio figlio? Oh! Serio! E tu, sarei il mio figlio! Il coraggio di affrontarmi! Io sono il leone! Oh, rischiamo! Statti, vola! Statti, vola! Statti, vola! Statti!